Eccoci con un nuovo video. Andrea Bertone sotto il video fisica della spada mi ha fatto un'ottima domanda. Leggo. In un'ottica funzionale come si determinano i pivot point e i punti di non vibrazioni ideali per una lama in relazione allo scopo della spada? Come ci si orienta in generale? Ovviamente l'argomento è molto complicato. Dobbiamo partire dal presupposto che le spade erano degli oggetti totalmente artigianali. Quindi ovviamente ogni produttore, ogni cliente chiedeva la sua personalizzazione. Possiamo fare però un po' una casistica. Partiamo da un libro fondamentale. Questo libro è Dash Sverte, The Sword, di Peter Johansson. Se non sapete chi è Peter Johansson è probabilmente il miglior spadaio al mondo in questo momento e anche una delle persone più lanciate in avanti nella ricerca di quella che è la tecnologia delle spade. In questo libro, meraviglioso, è veramente un fondamentale dell'arte delle spade. Lui prende tutta questa serie di misure, quindi il punto di bilanciamento, i pivot point, l'annullamento di vibrazioni, eccetera, di tutta una serie di spade originali del museo di Solingen. Ovviamente non è una casistica enorme, ma già ci fa capire tantissime cose di come funzionava la fisica, la filosofia degli originali. Possiamo vedere in grande sostanza, ripeto, sto andando molto sul generale, ma per poter dare un'informazione rapida, facile da capire. Vediamo come le spade lunghe, quindi armi a due mani, pensate per una scherma con numerosi cambi di posta e che ruotano appunto intorno a un pivot point primario solitamente molto avanzato. Perché questo? Perché, e basta vedere i trattati di scherma, quando andiamo ad utilizzare una spada a due mani, noi tentiamo di tenere la punta fissa sull'avversario e ruotare, ma siamo a una certa distanza, quindi basta che la punta sia impernata nel suo pivot point primario. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, in estrema sintesi, che una buona spada per fare fiore, vogliamo dirne uno, oppure Meyer, una spada a due mani, necessita un pivot point abbastanza avanzato. Quindi che cosa vuol dire? Nella pratica come faccio a vedere se la mia spada ha un buon pivot point? La prendiamo con una mano sotto l'elsa e andiamo a fare quel gioco di rotazione che faccio vedere nel video sulla fisica della spada e se la punta ruota su un pivot point che sia o proprio sulla punta dell'arma, un po' difficile da ottenere ma molto interessante, e quindi la punta rimane puntata verso l'avversario, o comunque con un pivot point nell'ultimo tratto della spada. Per quanto riguarda invece le spade più corte, le spade a una mano, si apre un'enorme casistica, perché ovviamente una spada a una mano pensata per un i33, di contrattato, oppure una spada da cavalleria, hanno dei pivot point completamente diversi. Quindi ovviamente io vado a cercare di ottimizzare la spada a seconda del fine che ha. Parentesi, molto spesso si confondono le spade a una mano da cavalleria con le spade a una mano da fanteria. Perché dico questa cosa? È facile, si vedono moltissimi esempi di originali, di type 10, type 11, type 12, eccetera, quindi spade comunissime nel 1000, 1200 e così via, che hanno un aspetto esteriore molto simile, molto classico, con la croce dritta, un pomella a disco, eccetera, e tutti siamo spinti a pensare che queste spade siano spade uguali, spade da cavalleria e da fanteria. In realtà poi diventano molto diverse quando uno le va a analizzare. Moltissime di queste spade hanno dei pesi importanti, dei pesi che arrivano a 1400 grammi, e sono spade pensate per la cavalleria, quindi l'amo un po' più lunga, bilanciamento portato in avanti, perché? Perché io se sono a cavallo basta che tiro giù la spada e già soltanto l'impulso del cavallo porto via tutto. Non devo fare tutti quei giochi, sono per esempio nell'E-33, in cui se vedete sono molto protesi in avanti. Quindi ovviamente se io devo stare proteso in questo modo ho bisogno di una spada leggera. E di fatti ci sono tutta una serie originali che a prima vista da fuori sono identici a una spada da cavalleria, ma invece sono molto più leggere, perdono due, trecento grammi addirittura, quindi estremamente più leggere, con una lama più corta, bilanciate molto più indietro e con un pivot point completamente diverso. Quindi anche lì bisogna stare molto attenti quando si acquista una spada a controllare che il pivot point e il peso e il bilanciamento di questa lama sia idoneo a quello che uno va a fare. Se io faccio una revocazione del 1200 o del 1000 e faccio un cavaliere, quasi nessuno di noi ha un cavallo, quindi in realtà la spada te la porti in spalla e è apposto così, ma nel momento in cui io devo andare a fare una dimostrazione in cui combatto a piedi, la mia spada deve essere completamente diversa, con un peso e un bilanciamento totalmente diversi. In questo caso, appunto, un peso che varia tra il chilo e il chilo e due, un bilanciamento molto più vicino all'elsa e un pivot point molto arretrato. Le spade hanno una mano di questo tipo, hanno un pivot point che torna molto più indietro rispetto alle spade a due mani, proprio perché io, come nell'I33, voglio poter incrociare con la lama dell'avversario, poter girarci attorno e poter avere quindi un controllo, una spinta della lama totalmente diversa da una spada a due mani. Se invece andiamo avanti nei secoli, cominciano ad esserci tutte quelle che sono le spade da lato, che troviamo molto più spesso nei trattati, quindi spade da lato, strisce, eccetera, che si allungano, che si stringono come dimensioni, ma anche lì con dei pesi che possono essere anche importanti e soprattutto con un bilanciamento molto più spostato in avanti. Spesso hanno un punto di bilanciamento spostato in avanti, quindi dei pomelli molto piccoli o addirittura spesso anche cavi, proprio per alleggerirli, un punto di bilanciamento spostato in avanti e un punto di rotazione, un pivot point, che rasenta la metà lama addirittura, proprio per poter avere questo gioco di leve e potersi muovere ancora più rapidamente nel tocco, come si sarebbe detto, con la spada dell'avversario. Quindi, velocissimo riassunto, prendiamo la nostra spada con due mani subito sopra la croce di guardia, la facciamo oscillare, vediamo dove cade il pivot point, il pivot point diventa il nostro punto di rotazione a seconda del tipo di scherma che andiamo a fare e il punto dove io voglio far ruotare l'arma. Spannometricamente, ma ripeto, è proprio un riassunto riassuntissimo, io vorrei che la mia spada a due mani ruotasse molto in avanti, vorrei che la mia spada a una mano ruotasse più indietro, quasi a metà, vorrei che le mie spade da lato ruotassero al centro. ripeto, è un'estrema semplificazione, è una cosa incredibile, molto riassunta, molto concentrata, ma questo video ci tenevo a farlo perché è preparatorio per un secondo video che voglio fare per i simulacri di spade che troviamo a un prezzo più abbordabile mentre quelli che sono di alta fascia. Non ci vedremo in questo piccolo studio, ma torneremo giù al laboratorio proprio per capire come mai una costa poco e una costa tanto.